Ciao a tutti e... vabbè, insomma, l'iniziale parla da sé. Niente, volevo praticamente rispondere a una critica che mi è stata fatta mesi fa quando in collaborazione con una mia amica avevamo fatto un video di cosa c'è nella mia borsa, versione duo, in quanto una ragazza ci diceva, specialmente era rivolta a me, perché io avevo fatto vedere la confezione di lata della Linus che vendevano anni fa in combinazione con un pacco di assorbenti, in più avevo fatto vedere un salvaslipo, quelli piccoli e ripiegati, e la ragazza diceva, ma è possibile che tutti e due non fate vedere un assorbente? Secondo me vi vergognate, non capisco il motivo. Io non capisco il motivo di, tra virgolette, questa critica, in quanto, cioè, non è che io non l'ho fatto vedere apposta l'assorbente, ma non mi porto via per forza tutti i giorni i pacchi di assorbenti. Quando ho un salvaslipo e quando al massimo ho un assorbente così, in caso dovesse succedere che mi trovo per strada e arrivano, basta, cosa altro vi devo far vedere? Comunque, io voglio girare questo video perché così almeno rispondo alla critica, faccio vedere che non ho problemi, che non è più un tabù, le donne hanno il ciclo, lo sanno tutti, gridiamolo ai 4-20, e basta, non c'è niente di male, insomma, a far vedere un assorbente. Se volete vi faccio vedere anche come lo metto a questo punto, non mi sembra il caso, ma... E niente, allora vi faccio a random, vi racconto dei miei fantastici pannolini. E questo qua che vi ho fatto vedere innanzitutto all'inizio è quello che uso nei primi o negli ultimi giorni. Ho un ciclo abbastanza abbondante, dipende dai mesi, dipende dai momenti, a volte è abbondante, a volte no, a volte dura 5, a volte dura 7 giorni, a volte neanche me ne accorgo, non ho più dolori, sarà da un annetto che comunque i dolori, come avevo una volta, non so neanche più cosa sono, a parte forse il primo o il secondo giorno, ma spesso e volentieri non prendo neanche nessun farmaco, perché è talmente una cosa leggera che sopporto. E a volte devo mettere degli assorbenti più indicati, più pesanti per la notte, perché ecco, la notte è il momento in cui veramente ho una perdita maggiore, metto sotto questo e poi metto sopra questi qua, io uso questi qua, flussi abbondanti, mi trovo molto bene, non mi danno allergia, non mi danno irritazione né niente, in offerta li trovate dagli 80 ai 90 centesimi, dipende da se è la saponeria, se è acqua e sapone, se è la calda, comunque ecco, sono fantastici e sono molto lunghi, altrimenti uso questi qua, i classici quelli notte, anche questi qua li ho trovati in offerta, e uso anche questi della E, lì ne se, li compro un po' meno, perché ovviamente il prezzo è tanto, li trovo a 3,60, quindi ce ne sono 10, è vero che qua ce ne sono 8, ma da 80 centesimi a 3,60 me ne vengono fuori, insomma. E, beh, innanzitutto questo qua è il top, ovviamente, cioè, proprio il top, però, vabbè, insomma, vanno bene anche questi. Questo qua è la versione più leggera, e, basta, qua, ve li ho appena fatti vedere gli altri. Questi sono i salvaslip che uso, e questi li trovo in offerta, di salvaslip non ho una marca particolare, quelli che li trovo in offerta li prendo e basta. Cos'altro poi volevo dirvi? Ah, beh, per, quando ho il ciclo, ovviamente ho soliti bidet, eccetera, eccetera, c'è aumento di gran lunga la pulizia, e uso tantissimo, le uso spesso, sempre, anzi, no, spesso, sempre. Questa qua è una carta igienica della Fria. Gli ingredienti sono abbastanza buoni, oddio, vediamo se li trovo. No, forse non li trovo. Comunque, la cosa che mi piace di più in assoluto è che, vabbè, l'inci è accettabile, è buono. Non fa irritazione, non brucia, ma si possono gettare nel WC, e quello è il top. Invece, volevo raccontarvi al volo una cosa. Questo qua è la Saugella, vabbè, io uso collattiva Altimo, e va da Dio. Ma ci sono gli assorbenti di questa marca Altimo, e vi prego, non comprateli, perché contengono paraffina. Cioè, proprio bocciatissimi. Costano come lì ne se è, ma hanno paraffina. E basta. Questo è tutto. Un video veloce, anche ho gli assorbenti, e vi saluto. A presto.